Trend is your friend ragazzi, bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video, il mercato è andato esattamente dove doveva andare, ripreso il suo trend ribassista, abbiamo un'unica possibilità che si fermi questa fase, rotta determinati livelli di supporto, rotti determinati livelli di supporto, la questione diventa estremamente complessa, io ancora vedo sul mercato, vedo decine di atteggiamenti completamente sbagliati, legati all'ambito investimento, oltre che al trading ragazzi, cioè quello di continuare ad andare contro trend, oggi parliamo di che cosa significa questa cosa, perché da anni e anni io continuo a parlare su questo canale, ragazzi siamo oltre 50.000, ovviamente siamo tanti, ma vedo che la stessa cosa non entra nella testa di tantissime persone, non si va contro trend ragazzi, non si va contro trend, se lo fate è a vostro rischio e pericolo, se il mercato rimbalza e voi avete comprato quando era in basso, si chiama fortuna, rifatelo mille volte e ci lasciate la pelle, va bene ragazzi? Allora, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, non mi fate inalberare su queste cose perché io sono sempre dell'idea che sbagliare, formandosi, perdere un'operazione perché si sta imparando, è tutto giusto, è tutto corretto, invece farsi fregare dal mercato perché non si ha il mindset giusto e non si è studiato a sufficienza ragazzi, quello è sbagliato, non vi fate rubare i soldi dal mercato, non credete a fandonie di comprare cose che crollano perché quelle volte che vi va bene è solo fortuna ragazzi, e badate bene che succede anche molto spesso questa cosa, è un dato numerico, ma le due o tre volte che vi va male avete chiuso il gioco, game over, questo è il problema, quindi adattatevi al mercato, se il mercato ha invertito il trend bisogna starci dietro, poi si ragiona oggi, vediamo quali sono i livelli di supporto, allora andare a comprare strategia sui livelli di supporto, c'ha un senso o meno, non mi riempite di commenti, ah ma quando si riprende, quando cosa, chi ve l'ha detto che si riprende, io spero che si riprenda, questo è un altro discorso ragazzi, ma i mercati si devono sempre seguire, soprattutto con gli investimenti medio lunghi ragazzi, non col trading di breve non c'entra assolutamente niente, questo non vuol dire che non dovete rientrare, questo non vuol dire che dovete stare sempre fuori dal mercato, ma dovete avere un piano, un money management vostro, della posizione che vi faccia stare sereni e tranquilli, in questo momento vi assicuro che il mercato non ha portato panico, ma se lo farà, vedete, il sangue scorrere sotto i fiumi, questo è il discorso, quindi non esistono posizioni che io mantengo per i prossimi 10 anni, perché se siete a meno 90% è finito il gioco ragazzi, va bene, questa è una legge statistica, poi tutto può succedere nella prossima bamburran, quel che venga eccetera, ma proteggetevi ragazzi, ricordatevi sempre, proteggetevi, vale, sia per il mercato delle crypto, sia per le stocks delle azioni, non c'è nessuna differenza, perché anche il mercato azionario vi dà delle batoste ragazzi, che neanche ve lo immaginate, adattatevi al mercato, trend easy, just trend, tre minuti, andiamo alle analisi. Ok, sono ritornato normale, sorridente, bello tranquillo e mi metto anche il bitcoin gold così, in versione James Bond. Va bene ragazzi, allora, siamo in fase di chiusura del ciclo mensile di bitcoin, dopo la menata che vi ho fatto, quella è di mindset, che è fondamentale, voglio però portare l'attenzione a quello che sta accadendo in questa fase, noi abbiamo una carta, cioè il fatto che questo ciclo mensile attuale di bitcoin si riesca a concludere, o rialzista o in doppio minimo, che per noi è una salvezza ragazzi, perché stiamo aspettando la ripresa di un ciclo semestrale, che tarda ad arrivare, come vedete, il mercato è molto debole, molto molto debole, tutto però fila liscio, secondo quelli che sono i conteggi ciclici che abbiamo fatto già da mesi, sapevamo alla perfezione, che questa fase era, rientrava, diciamo, in un disegno abbastanza specifico. C'è però anche da rendersi conto che il mercato, essendo molto debole, bisogna stare attenti a flash crash improvvisi. Settimana scorsa ho fatto un'analisi sul mio canale Telegram Premium, perché volevo ringraziare anche tutti gli iscritti al mio corso, ragazzi, sono state un sacco di persone, sono contentissimo, ovviamente è una grande responsabilità perché stiamo rifacendo tutto quanto, e quindi sul canale Telegram ho pubblicato quello che era un'analisi di fase di bassista, se non che moltissimi in Academy da me, ragazzi, più di me, perché io non faccio magari queste operazioni, sono andati in short, hanno fatto un botto di gain, ragazzi, altre cose, il 3%, il 4% della DeFi, ma di che cosa stiamo parlando? Va bene, sono cifre che andate a recuperare in mezz'ora con una singola operazione, ragazzi, non stare ad aspettare un anno sperando che i progetti non falliscono. Ricordatevi di bilanciare le cose, fare le rendite, suon'operire gli investimenti a lunghissimo periodo, ragazzi, non per quelli a breve, va bene? Poi il test, cose, io ne faccio mille, sapete, vi ho pubblicato anche il video sulle DeFi, eccetera. Allora, andiamo a vedere questa cosa, poi un'altra questione che mi dite sempre, è quella legata alla short selling, ragazzi. Allora, come vado a fare short selling e che cosa uso? Perché Binance in questo momento non riesce in Italia perché manca di futures. Io sto usando due piattaforme per lo short selling in questa fase, ho iniziato anche io a fare alcune operazioni di short selling questa volta, ragazzi, ma non vado, diciamo, a fare short di lungo periodo. Comunque, per proteggervi da una fase di ribasso, qualora volete fare lo short selling, ricordatevi che uno è per persone che hanno le skills e sono assolutamente formati, perché lo short selling è un pochettino più pericoloso del long e quindi senza formazione non fate queste cose, io non vi do consigli finanziari, dovete studiarle queste cose e poi le fate. Poi due servono delle piattaforme che vi rendono la questione estremamente facile. Ne sto usando due, sono uno meglio dell'altra, una e più per Trader Pro che è Delta Exchange, ragazzi, ve la faccio rivedere. Eccola qui, Delta, ragazzi, vi consente di fare un botto di operazioni, ha le opzioni che sono per gli utenti pro, veramente, insomma, dei salvagenti in queste determinate fasi. Poi ha tutti i futures, quelli legati alle crypto più importanti, potete fare short anche a leva, rilevante. L'unica cosa è che qui potete depositare al momento all'Italia solo crypto, quindi questa è una piattaforma per chi è già nel mondo crypto e vuole mettersi in pancia degli strumenti che vi consentono di fare edging, protezione e quant'altro. Adesso poi facciamo anche, vi faccio vedere anche un esempio. L'altra è FTX che è l'exchange più classico anche per fare questo tipo di operazione short perché vi consente anche di bonificare dall'Italia euro ed è una piattaforma tutto sua, lo sapete, quindi FTX e Delta Exchange. Vi lascio il link in descrizione, mi date una mano con i referral, ragazzi, e possiamo andare a vedere un po' queste tipologie di operazione. Allora, vi faccio vedere intanto la questione di Delta, per esempio, in questo caso io stavo, proprio in questo momento, stavo valutando la possibilità di fare un short selling su ADA per un trade di brevissimo periodo, quindi su grafico un'ora. Immettere uno short selling su questo exchange è veramente molto semplice, ragazzi, perché basta cliccare qui, vedete, sell short, poi qui si va a decidere la leva, che è veramente altissima, insomma, ragazzi, quindi usate la leva più consono alle vostre esigenze perché il problema della leva è più di natura formativa, ragazzi, non è un problema di quanta leva usate, è che dovete sapere che cosa state facendo, quindi si usa così. Dopodiché qui c'è la possibilità di andare a inserire la quantità, la quantità può essere messa anche in dollari, per esempio io qua metto 1000 dollari, in questo caso metterò un prezzo limite e il prezzo limite mi indica il prezzo di mercato in questo momento e potrò andare a fare lo short selling, andare a immettere il mio ordine. Per esempio io voglio dire, ok, vai a vendere il short selling a 94, quindi alzo un pochettino, qua 0,94, vendimi 1000 dollari a leva 10, in questo caso è immetti l'ordine, in questo momento l'ordine è stato, vedete, inserito ed è qui, se il mercato, in questo caso sale al di sopra di questo livello, tocca questo livello, questa operazione entra e quindi io vado in short selling che significa da qui se il mercato continua a scendere io andrò in gain. Così si usa la short selling anche su FTX è la stessa cosa, veramente molto molto semplice. Utilizzare la short selling è solo per trader professionisti, ve l'ho già detto ragazzi, quindi attenzione a queste cose. Andiamo invece a fare l'analisi per vedere dov'è Bitcoin in questo preciso momento e soprattutto vi faccio rivedere anche i grafici della DeFi per quanto riguarda la questione della Total Market Cap, non mi è piaciuta proprio. Anche la Dominance in realtà non sta rispecchiando un po' quello che doveva fare, quindi ancora continua ad essere debole, Bitcoin è molto debole, poi diamo un'altra, che siamo in dirittura d'arrivo con delle cose, insomma, quindi ragazzi, velocissimamente facciamo il punto, anche perché in linea di massima sapevamo già un po' questa che era quella situazione attuale. Terzo movimento della struttura del ciclo mensilio di Bitcoin che è iniziato il 24 di gennaio, primo movimento è stato al rialzo, secondo movimento al rialzo, terzo movimento è già ribassista, quindi non si può salire, fin tanto che questo movimento ciclico finale non va incloso, cioè non è chiuso, probabilmente sia l'ultimo movimento del mensile sia il mensile, è da lì la chiave del comprendere se poi parte il nuovo semestrale o meno, o è già questo il nuovo semestrale, il fatto che il mercato sia in trading range in questo momento, perché non ha rotto questo livello, livello chiave, 33 mila dollari circa, è molto buono, però è anche vero che se noi andiamo ad analizzare quello che è l'andamento sopra le medie mobili, questo tipo di ciclo mensile di Bitcoin non è bellissimo, quindi non è ancora un disastro, questo è il discorso ragazzi, però è andato a salire sopra le due medie, ma poi ha ripreso subito alla discesa, quindi questo è il famoso fake break, e qui c'è invece il rientro all'interno delle medie, questo tipo di atteggiamento non lascia scampo, significa essenzialmente che il mercato può o fare bara di congestione nei prossimi giorni e stare al di sopra di un minimo per vedere se resiste, ma qua dipenderà magari di alcune news da quello che può succedere con alcune regolamentazioni che in questa settimana dovrebbero uscire fuori, oppure può andare a breccare il minimo di 33, continuare il trend al ribasso, se brecca il minimo di 33 fa un altro ciclo mensile ribassista, ed è pericoloso ragazzi, ve lo dico in maniera molto chiara, più ci avviciniamo al minimo di 29,6, che è il minimo dell'anno del 2021, più il mercato diventa estremamente proiettato al bear market, molto pericoloso per l'intero anno 2022, essendo che siamo solo a febbraio, ed essendo che il ciclo annuale di bitcoin deve andare in closo verso settembre, dobbiamo assolutamente tenere questo minimo qui, questo è un punto secondo me di non ritorno, pericolosissimo ragazzi, quindi assolutamente dobbiamo mantenerlo, allora qua la questione è legata a dove va a chiudere questo ciclo mensile, allora vi faccio vedere i livelli, che questo minimo non deve essere breccato in nessun modo in questo ciclo mensile, se vogliamo che venga ancora mantenuto un ciclo rialzista, se invece andiamo a chiudere il semestrale con questo mensile, dobbiamo fare un nuovo minimo, un doppio minimo, fin tanto che siamo vicini a questo minimo, anche leggermente sotto, per esempio intorno ai 33, in questa zona qui, ed il mercato ci arriva verso fine mese di febbraio, quindi entro questi giorni, o massimo i primi di marzo, non è una cosa totalmente sbagliata, perché semplicemente andiamo a chiudere il ciclo semestrale in maniera corretta, con una tempistica di 220 giorni circa, adesso non mi ricordo, poi magari lo ricontrolliamo in un video successivo, precisi, e questo ci sta ragazzi, perché è in sostanza quello che è la media storica di questi cicli semestrali, quindi niente di anomalo, quindi fin tanto che siamo sotto magari il minimo del 24 di gennaio, ma non troppo sotto, quindi leggermente l'abbiamo breccato, quindi una specie di doppio minimo sporco, mi sta bene così, poi bisognerà vedere la successiva ripartenza. Dal prossimo ciclo mensile, ragazzi, se il trend non riprende al rialzo, la questione si mette male, però le carte che dobbiamo giocarci in questa fase, e che possono, secondo me, anche dare spazio ad un rientro long, per cavalcare questa eventuale fase di alzista, ci sono, e sono ancora in essere, quindi stiamo ancora giocando la partita, non è detto, diciamo, l'ultima parola non è stata detta, c'è da dire anche che se questo ciclo, che è un mensile, va a breccare leggermente questo minimo, ma non chiude molto sotto, vedete, fa una cosa del genere, un'eventuale ripresa, lascia un bellissimo livello di resistenza, che sono i 45k, che sarebbe in quel caso, un livello di resistenza, che se breccato, innescherebbe proprio un nuovo trend long, appunto, dei tre mesi che stiamo aspettando, tutto girerebbe poi per il meglio, quindi questa è l'analisi che dobbiamo tenere a mente, sono otto giorni, lo sappiamo dalla scorsa settimana, questo ciclo è ribassista, e anche se inizia a rimbalzare da qui, ragazzi, potrebbe essere semplicemente metà della fase discendente, quindi fa un balzo e poi magari ritenta, quindi state attenti un po' a questa fase, ma 45k è il livello di resistenza, che se inizia un nuovo trend e il mercato ci va su, cambia radicalmente tutto quello che è il momentum dei prossimi due o tre mesi, ed è quella la nostra sperazza, ragazzi, ve lo dico in maniera chiara, perché da un punto di vista di conteggio, noi siamo nella fase di chiusura dei cicli, e quindi dell'holding di Bitcoin, e quindi in bear market, se andiamo a calcolare tutto quello che sono invece le fasi del mercato hold, adesso vediamo Nasdaq, anche l'oro sono in fase negativa, quindi l'unica speranza in questo momento è che il mercato vada a chiudere questo mensile, o poco sopra il minimo del 24 di gennaio, o poco sotto, quindi leggermente vicino, un'aria di prezzo, questa zona ragazzi, deve stare qua dentro, va bene, giusto per capirci, se riesce a starci, poi la eventuale ripresa, ha l'obiettivo di breccare questo livello, se ce la fa, allora siamo fuori, pericolo per un po', questo è quello che vi sto dicendo, fin tanto che questa cosa non avviene, siamo in trend a ribasso ragazzi, e quindi bisogna adattarsi, bisogna capire quello che sta succedendo, se siete holder va benissimo fino al break di questi minimi, ma se break i minimi del 2021, ragazzi, si salvi chi può, però il problema è che poi, siamo molto bassi, quindi bisogna gestire queste cose, al meglio ragazzi, è questo il problema, nelle fasi di uscita, si fanno i profitti, non nelle fasi di entrata, e se voi non uscite mai, vi state solo rimandando, diciamo la questione, ed è giusto per chi magari, sta facendo holding, di lunghissimo periodo ragazzi, però, per chi ha grandi capitali, magari già investiti, perché viene, da quelle che sono state le bolle, magari del 2017, del 2020, allora ragazzi, non gestire il proprio patrimonio, lasciarlo addormentato, non è proprio una genialata, perché, ok che tutto filaliscio, finora, ok che siamo stati su mercati, che sono fantastici, ok che l'adoption è fantastico, ok, tutte le questioni fondamentali, che ci diciamo sempre, ci crediamo, però, va bene, però, io magari, se vedo che c'è fuoco, in una stanza a casa mia, un po' d'acqua, ce la butto, questo è il discorso, va bene ragazzi, sicuramente sarà, tutta chiusa, non usciranno le fiamme, nelle altre stanze, però, fatevi torbire sogni, tranquilli, va bene, allora, detto questo, ragazzi, vi faccio vedere Nasdaq, dove siamo, anche lui, sta andando a fare esattamente, quello che avevamo detto, nelle scorse settimane, tutto è, è assolutamente, normale, vedete che la, struttura di Nasdaq, porta a una fase, di chiusura, di questo ciclo, che è, verso fine febbraio, o la prima settimana, di marzo, questo proprio, è il motivo, secondo me, per il quale Bitcoin, è fortemente, debole, in questo momento, quindi molto collegato, alla questione, dei mercati tech, USA, il problema è che, la fase vera, dei mercati tech, americani, quindi dell'intero mercato americano, in generale, andrà poi, a chiudersi, vicino settembre, anche qui, quindi, questo è semplicemente, una boccata d'aria, ragazzi, questo è il problema, lì però, andremo poi, sul canale, e faremo poi, dei briefing, vedremo un po', il da farsi, eccetera, quindi, gestiremo un po', al meglio, tutta la questione, quindi ragazzi, iscrivetevi, mi raccomando, per le analisi, quelle, diciamo, salvavita, chiamiamole così, allora, anche Nasdaq, è vicino a questa zona, sta chiudendo questo ciclo, che è un semestrale, anche per lui, che dovrebbe andare poi, a indicare, una nuova fase, al rialzo, quindi un nuovo semestrale, al rialzo, il problema è che, il ciclo annuale di Nasdaq, è ribassista, ragazzi, quindi, non penso, che ci possa essere, in linea di massima, tanta possibilità, di vedere nuovi massimi, o una campa rialzista, che ci faccia ben sperare, secondo me, l'anno 2022, per i mercati old, è un anno di riposo, e relax, dalle bull run, senza senso, diciamo, avute, negli scorsi anni, andiamo a vedere, invece, la questione, della DeFi, per capire un po', dove siamo, secondo me, la questione, della DeFi, è di nuovo sotto, il livello, di supporto, anche qui, ha fatto, semplicemente, un breakout, pullback, delle due medie, è riuscito sotto, cosa succede, ragazzi, se andiamo a perdere, questo livello di supporto, che è diventato, il nuovo supporto, dopo il break, che è quest'area qui, e la perdiamo in chiusura, della settimana, perché, i progetti di DeFi, diciamo, non hanno mai chiuso sotto, i 110, 112, miliardi, di capitalizzazione, in questo, grafico, c'è dentro, anche, la questione, di Ethereum, ragazzi, quindi, è molto delicato, ora, qui, sembra, proprio, che questa struttura, civica, di lungo periodo, abbia una struttura, ternaria, e che questa roba, qui, sia già, al ribasso, quindi, sembrerebbe, questo, leader, della market cap, della DeFi, e quindi, in sostanza, un dimezzamento, alla fine, dei giochi, verso febbraio, agosto, però, su quello, ragazzi, sapete, che a me, non piace fare, previsioni di lunghissimo periodo, perché, poi, i mercati, vanno seguiti a braccio, quindi, va bene, due, tre giorni, va bene, una settimana, però, poi, se andiamo a fare, previsioni da qui, a Natale, diventa un gioco, non è più, statistica, non è più, matematica, quindi, a me, non piace fare queste cose, però, in linea di massima, questo grafico, è fortemente da attenzionare, perché, anche lui, ci sta dicendo, che probabilmente, da qui, sta per concludersi, una nuova fase, probabilmente, in questa zona, dovrà chiudere, questo ciclo, per poi fare l'ultimo, poi, anche qui, vedete, non sembra ben, sperare, per l'anno 2022, quindi, dovremmo avere questa struttura, però, se iniziamo a rimbalzare, poi, facciamo altri conteggi, vediamo un po', dove va, per esempio, se riesce a salire sopra, queste due medie, e quant'altro, situazione DeFi, molto debole, in effetti, è proprio così, perché, ci sono alcune criptovalute, del settore della DeFi, come CRV, per esempio, CARB, eccetera, che hanno perso, veramente tanto, ragazzi, quindi, sono scese, veramente tanto, in più, ce ne sono altri, che invece, hanno iniziato, un trend al ribasso, quindi, potrebbe essere, tutto coniugato, con questa, fase, poi finale, quindi, la vedremo, io vi dico, di stare fortemente attenti, non siate molto, spostiti, alle altcoin, in questa fase, va bene, se volete fare, gli holder di Bitcoin a vita, senza fregarvene, della fase di bassista, ci può stare, ragazzi, ricordatevi, che però, alcune cripto, non tutte, perché quest'anno, alcune criptovalute, sono molto più forti, anche di Bitcoin, e la cosa è fantastica, però, alcune cripto, sono molto volatili, quindi, fate una cosa, andate a guardarvi, il grafico, di quella criptovaluta, che magari avete in portafoglio, contro Bitcoin, e se ha un grafico, positivo, magari, la potete tenere, quindi, realtista, la potete tenere, insieme a magari a Bitcoin, se invece la vedete, che è deboluccia, rispetto a Bitcoin, ragazzi, riducete l'esposizione, rischiate di meno, perché, che se le cose girano malissimo, ovviamente, voi siete a posto, ok? Se le cose riprendono a rialzo, comprerete un po' più cari, ma, ragazzi, è il costo di un'assicurazione, e questo è il discorso, quindi, dipende da voi, dipende dalla vostra mentalità, dalla vostra strategia, va bene, ho parlato tanto, oggi, ho parlato tanto, perché ero innervosito da alcuni commenti, che mi danno fastidio, perché si prendono con superficialità, dei discorsi, che poi invece, impattano moltissimo, su quelli, che sono i neofiti, quelli che stanno arrivando da poco, sul mercato delle criptovalute, poi, come nel 2018, perdono tutto, come è successo nel 2018, si disinnamorano di questo mercato, arrestano al pallo, ragazzi, noi siamo qui, per aiutare le persone più deboli, non i sapientoni, e tutto il resto, noi siamo qui per dare formazione, per cercare di dire le cose come stanno, non dobbiamo credere, con i paraocchi, a massimalismi senza senso, perché poi c'è qualcuno, che magari non capisce delle cose, c'è qualcuno che ci rimette le penne, questo è il discorso, e per questo vi ho fatto, un po' la menata, ci tengo a queste cose, allora vi ho detto tutto quello che penso, sette giorni circa, vediamo se il mercato si riprende, se si riprende facciamo un video, aggiornamento di emergenza, altrimenti stiamo andando in chiusura, del ciclo mensile, mi raccomando, trend is your friend, che video ci, ciao!